Buon pomeriggio, eccoci qui con i consueti appuntamenti relativi alle breaking news. Non ci sono troppe novità che riguardano il mercato, anche perché si continuano a fare nomi tra gli altri bernardeschi disponibili a rientrare in prestito secco oppure con Magnus dell'Atalanta, Torano del Nizza, Sudacov dello Shatterdon, però difficilmente questi potrebbero sbarcare. A Torino a gennaio, visto l'alto costo dei loro cartellini, bisognerà comunque aspettare a fine stagione per vedere che cosa accadrà. Però diamo un'occhiata a quello che è il futuro di questa Juventus squadra vecchia, ma con prospettive nuove, perché deve essere un anno con novità, ci sono troppe svolte che saranno determinanti nel bene o nel male. Siamo un po', eccoci qui, perché no, magari dopo 12 mesi un trofeo, dopo delle stagioni di digiuno. Vedremo quello che accadrà in sostanza. Al 30 giugno del 2024 scadrà il contatto con Jeep che, salvo clamorosi ripensamenti, non verrà rinnovato. È da un anno che la dirigenza, Francesco Calvo, in questo caso sta cercando un nuovo partner. Finora non è stata una ricerca facile, considerato che è iniziata proprio nel periodo di maggiore difficoltà per il club e la squadra, senza partecipazione alle Coppe Europee. Abbiamo visto in un'analisi il fatto che proprio le entrate da pubblicità, in questo caso, sia diminuito perché comunque Jeep non si vede più in ambito internazionale dalla Champions. Dunque la Juve incassa circa 45 milioni a stagione con eventuali bonus legati ai risultati. L'obiettivo per il nuovo contratto è arrivare almeno a quota 50. Ci sono stati abboccamenti con brand sauditi della penisola araba, ma non si è chiuso assolutamente nulla. Si sono registrate trattative anche con aziende statunitensi nell'ambito delle telecomunicazioni, ma anche in questo caso al momento non ci sono sviluppi, quindi non c'è stato seguito. Nei prossimi due mesi saranno fondamentali, vedremo quello che accadrà. Ricordiamolo, la Juventus ha subito una perdita da questo punto di vista. Allegri, Allegri in questo momento è l'allenatore più saldo in panchina, sembra dell'intera Serie A, almeno così si dice, e lo sarà qualsiasi cosa accada, questo fino alla fine della stagione. Poi verrà presa una decisione, ma sembra che, secondo i rumors alimentati da direttori di giornali, a decidere debba essere proprio lui. Voglia di continuare, o qualora la Juventus avesse raggiunto gli obiettivi, potrebbe anche decidere di andarsene, magari in Arabia. Tra l'altro anche Pirlo sembra abbia avuto ai tempi un'offerta importantissima, per citare qualche ex. In questo momento società, Giuntola in particolare, sono estremamente soddisfatti della gestione e non sono per il secondo posto. Appunto la sensazione potrebbe essere quella che nessuno abbia voglia di pensare al futuro, anche perché è un presente che sta assorbendo tutte le energie e sta dando comunque dei risultati, sia secondi in classifica. Quindi il futuro di Massimiliano Allegri si deciderà tra fine di aprile e primi di maggio. E poi, abbiamo le risultanze di un processo penale, quello di Roma, i cui faldoni sono stati trasmessi dalla procura di Torino, ricordiamo la procura incompetente, che ha visto i magistrati romani molto celeri nella lettura dei faldoni. Hanno dichiarato chiuse le indagini qualche giorno prima della fine del 2023. È lecito aspettarsi la richiesta di un livello di giudizio e un'udienza preliminare potrebbe arrivare a marzo e nel caso di processo si potrebbe andare in aula dopo l'estate. Attenzione, attenzione, perché questo processo non avrà alcuna conseguenza sportiva per la Juventus, perché in quell'ambito è ormai tutto definito. Sarà importantissimo per gli ex dirigenti coinvolti, da Andrea Agnelli in giù, per capire l'eventualità delle gravi violazioni o della gravità delle violazioni per le quali la Juve si è vista togliere 10 punti e 100 milioni della Champions League. Intanto, Andrea Agnelli è stato avvistato a Bardonecchia per un caffè, ha fatto anche alcune foto con un gruppo di tifosi, ma niente di più, insomma. Più interessante sotto il profilo delle conseguenze sportive è l'esito del ricorso al TAR di Antonio Giraudo, che verrà esaminato con tutta probabilità con quelli di Andrea Agnelli e Maurizio Rivabene. Il tema è l'inappellabilità delle sentenze della giustizia sportiva tutelate dalla legge 280 del 2003, la quale sarebbe in palese contrasto con il diritto europeo. L'argomento è comunque limitrofo alla sentenza della Corte di Giustizia europea che è appena stata emanata sul monopolio di UEFA e FIFA e di cui esamineremo le relative conseguenze. Cosa può cambiare? Nel caso di Giraudo potrebbe essere un passo per vedere riconosciuto il fatto che nei processi del 2006 non furono rispettate le regole del giusto processo. Ci vuol poco comunque anche a capirlo. Un po' come è accaduto nel processo Plus Valente dove il diritto di difesa è stato violato e dove noi da questi schermi abbiamo più volte messo in evidenza tale fatto. Però una vittoria non avrebbe conseguenze immediate ma potrebbe innescare in sviluppo interessanti per la parte di Tifo Viventino che è ancora appassionata alle vicende del 2006. A giugno Chiellini lascerà la California e tornerà in Italia. Tornerà la Juve? Bella domanda. La strada sembra asfaltata e c'è magari anche l'intenzione di percorrerla da parte di Chiellini ma c'è molta cautela nella nuova Juve sul tema delle bandiere nel ruolo di dirigente. Chiellini ha un profilo idoneo, direi perfetto ma perché ha una laurea in economia e master ma lo sappiamo perfettamente un conto è studiare determinate cose e un conto è metterle in atto. Si potrebbe parlare al momento di buone, si può parlare di buone possibilità. Sarà anche l'anno giusto in cui osservare le due promesse Ildiz e Uyssen, il primo ha già segnato il suo primo gol e si sta ritagliando un posto importante nell'attacco di Juventino. Il difensore olandese Uyssen invece è destinato al prestito, al Frosinone per trovare spazio maturare. Potrebbero essere due pilastri da Juventus nel futuro e per i prossimi 12 mesi saranno i prossimi determinanti per vederli maturare. Questo più o meno a grandi linee quello che potrà accadere aspettiamo anche novità in ambito calciomercato ma senza eccessive illusioni. Ci vediamo come sempre nei prossimi appuntamenti. Grazie.